Un grosso problema che si dovrà affrontare anche in questo 2024 è la carenza di personale sanitario e proprio su questo tema si fonda il convegno che verrà proposto alla cittadinanza il sabato 13 gennaio a Dogliani, al teatro di Dogliani con inizio alle 9.30. Ne parliamo con Marcello Cavallo che è presidente dell'associazione Insieme che ha organizzato insieme ai suoi pianeti, in questo caso il pianeta della sanità, ha organizzato questo importante evento. Noi come associazione Insieme abbiamo proprio questa attenzione all'uomo, alla persona e quindi la sanità è un elemento imprescindibile di questa attenzione. Noi abbiamo un pianeta, un gruppo di lavoro apposito che si occupa di sanità e ci siamo posti un po' il problema di da dove partire ad affrontare il tema più generale della sanità. Abbiamo deciso di affrontare questo della carenza di personale perché è uno tra i temi che sono emergenti se vogliamo, dei temi che sono all'attenzione. È un problema complesso, cercheremo di parlarne, di discuterne ma soprattutto cercheremo anche di vedere se ci sono delle soluzioni a questo tipo di problemi. Ecco, ospite d'onore di questo convegno Walter Ricciardi che è un docente di medicina all'Università Cattolica di Roma ma non solo è stato nel periodo Covid una figura di spicco essendo consulente del ministro di allora, del ministro Speranza. Delle risposte da Ricciardi potranno arrivare? Noi ci auguriamo che Ricciardi essendo uno dei maggiori esperti di sanità a livello nazionale ci dia proprio un contributo a capire cosa si debba fare per risolvere questo problema. C'è un problema di numero chiuso, c'è un problema di mancanza di motivazione come leggevo l'altro giorno, c'è un problema di remunerazione, c'è un problema di vivere la propria vita rispetto a fare una professione che è diventata davvero molto impegnativa. Ecco, con Ricciardi e con l'assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi affronteremo proprio questi temi. Noi poi abbiamo voluto anche coinvolgere quelli che sono i rappresentanti delle professioni, dei vari ordini, quindi dai medici agli infermieri, ostetriche e altri, proprio per avere uno spettro ampio di opinioni e poi cercare di fare una sintesi che ci permetta anche di elaborare qualche piccola proposta, almeno a livello locale. Ecco, quindi un momento per confrontarsi e soprattutto per guardare avanti facendo delle proposte costruttive. L'appuntamento, lo vogliamo ancora ricordare, è sabato 13 gennaio alle ore 9.30 nel Teatro di Dogliani.